quest'anno. Le novità sono che prima di tutto aumentano sempre, naturalmente siamo felicissimi e l'ultimo arrivato è a territorio dal Burus Weiss. Abbiamo una bella sfilata di 800 spazzacamini, 150 figuranti che fanno musica e abbiamo 4 gruppi folkloristici, abbiamo fatto amicizio con quelli della Val Onsernone, i nostri cugini, stessa storia di spazzacamini, stessa storia di emigrazione. Finora è andato tutto bene e speriamo che con questo sole che questa volta ci accompagna sia una bellissima giornata e un bellissimo raduno.